Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlare del Milan. Nell'ultima giornata di campionato c'è stata una vittoria importantissima e inaspettatissima contro la Juventus. Premetto che è stata sicuramente una partita condizionata dall'arbitro perché il gol della Juventus era assolutamente regolare, ma vi assicuro che avrei fatto questo video anche in caso di pareggio e addirittura di sconfitta. Il Milan quest'anno mi sta piacendo tantissimo e non lo sto dicendo solo ora che fortunatamente arrivano anche i punti, ma lo dicevo anche a inizio campionato quando i punti stentavano ad arrivare. Ci sono i blog che possono testimoniarlo. Anche quando perdevamo ero comunque sempre abbastanza soddisfatto dell'atteggiamento. Come ben saprete il Milan ha perso 0-1 in casa contro l'Udinese ed è quindi arrivato alla seconda sconfitta su tre partite in questo campionato. Sono meno pessimista del dovuto. Il Milan in queste tre partite, devo essere sincero, non mi è dispiaciuto. E paradossalmente mi sta facendo incazzare molto meno rispetto ad altri anni in cui magari avevamo più punti ma giocavamo più svogliati. Contro la Juventus il Milan ha giocato veramente bene. Quando si fa un'analisi della partita bisogna anche valutare il tasso tecnico della squadra avversaria. E in questo caso la Juventus è sicuramente superiore a questo Milan. Ecco perché dico che al di là di come sarebbe finita la partita il mio parere era comunque positivo. Finalmente negli ultimi anni abbiamo fatto un po' di pulizia tra calciatori che si pensavano dalle prime donne, tra calciatori che pensavano più al gossip e che al calcio e tra giocatori finiti o giocatori assolutamente non da Milan. Credo che mai come quest'anno il Milan abbia la concreta possibilità di aprire un lungo ciclo vincente. Per vincente non intendo che inizieremo a vincere quest'anno o il prossimo anno. Il mio discorso e la mia speranza per un progetto a lungo termine è basata su quei 4-5 giocatori che abbiamo, giovanissimi ma che hanno personalità da vendere. Basti pensare a Gigi Donnarumma, classe 1999. Lo scorso anno è stato praticamente buttato in campo da Mialovic al posto di Diego Lopez, si è subito messo in mostra, addirittura sono partiti i primi paragoni con Gigi Buffon, paragoni che ora come ora terrebbe in lontani. Altro giocatore giovanissimo dalle incredibili potenzialità è Alessio Romagnoli. Classe 1995, ha solo 21 anni, il Milan ha investito tanto economicamente per riuscire a prenderselo, tanti inizialmente hanno pensato che quei soldi fossero troppi per lui. Ma partita dopo partita Romagnoli sta impressionando sempre di più. Anche lui ovviamente spesso commette delle piccole ingenuità, ma ci stanno assolutamente. Una grande importanza per la sua crescita professionale è dovuta anche a Paletta. Paletta, che dir si voglia, è un grande professionista. E nonostante sia un giocatore che a me non fa particolarmente impazzire, deve ammettere che sta aiutando tantissimo Romagnoli, come quest'ultimo ha dichiarato in diverse interviste. Passando al centro campo non possiamo non parlare di Manuel Locatelli, classe 1998, quindi appena 18 anni. Entrata al posto di Montolivo nella partita contro il Sassuolo ha subito dimostrato di essere veramente un potenziale grande campione. A causa dell'infortunio di Montolivo diventa quindi il titolare fisso inamovibile del Milan e contro la Juventus, a parte qualche piccola sbavatura, fa un'altra grande partita, siglando un altro meraviglioso gol al portiere più forte del mondo. Dopo l'infortunio di Montolivo a Locatelli sono state praticamente consegnate le chiavi del centro campo del Milan. Tutto questo mi ricorda anche un po' la storia di Paolo Maldini. Non tutti sanno che inizialmente Maldini era sì in prima squadra, ma giustamente era sempre in panchina perché era molto molto giovane. Un giorno però a causa dell'infortunio di Battistini, Paolo Maldini inaspettatamente venne mandato in campo e da quel giorno divenne il titolare del Milan per i successivi 25 anni. Altro giocatore giovanissimo è Mbaieniang, classe 1994, quindi 21 anni. Rispetto a qualche anno fa non solo è migliorato tecnicamente ma anche mentalmente. Si è responsabilizzato tantissimo e i risultati si vedono. Il progetto a lungo termine di cui vi parlavo secondo me deve basarsi su questi giocatori. Che caso vuole siano portiere, difensore, centrocampista e attaccante. Penso che il Milan abbia la spina dorsale perfetta, ora sta alla società a riuscire a comprare altri giocatori da metterci intorno. Al di là che siete tifosi milanisti o di altre squadre, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate. Prima di chiudere il video vorrei salutare i tre ragazzi che prima di tutti hanno azzeccato il risultato esatto di Milan-Juventus 1-0 che sono Davide Agnelli, Leo Tomaiuolo e Pablo Prince Mirabella. Ragazzi il video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un like, se non siete ancora iscritti iscrivetevi e vi ricordo che dopo domani, vada a dire mercoledì alle ore 14, uscirà Stranezze nel Calcio 2. Spero di essere tutto e alla prossima, ciao!